Incastrata da questo video, una donna, due bicchieri di vino rosso in uno dei due, sta versando del sonnifero. Sono le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza all'interno della casa, nel quartiere Ottavia, Roma, di Franco Giordanella, 68 anni, pensionato, la vittima. Wandley, per alta della Cruz, 46 anni, domenicana, in arte patrizia, residente a Roma, è seduta alla scrivania dello studio nella casa dell'uomo ad escato sui social. Questo è il momento in cui estrae dal reggiseno un flacone, verse il contenuto nel bicchiere di sinistra, poi nasconde la bottiglietta sotto il cuscino. Franco Giordanella si addormenta e lei lo deruba, cellulare, banco, matte e carta di credito, eccola mentre entra ed esce dalle stanze e fruga dappertutto. Inizia subito a spendere il suo denaro dal parrucchiere in negozi di abbigliamento, in cinque giorni gli sottrae quasi 8 mila euro, mentre lui è già morto. Tutto inizia a settembre, quando lei contatta il pensionato sul sito di incontri, finge un interesse per lui. Ciao, sono Patrizia. Dalle chat al...